Posizione numero 10 Oddio ma che schifo qua si è messo proprio un insetto Adesso non mi ricordo manco come si chiama Anzi iscrivetemelo nei commenti se lo riconoscete Beh ma sa che oggi non si gioca Ha trovato proprio una posizione comoda eh Posizione numero 9 Oh in questa cassetta postale le api ci hanno costruito un alveare Ma chissà perché E 666 Da qua c'è proprio un zampino del diavolo Posizione numero 8 Oh torni a casa e trovi il tuo gatto così sopra il ventilatore del soffitto Cioè ti chiedi qua c'è qualcosa di paranormale Io me ne andrei da quella casa Eeeh dai 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 Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro peppocalippo E' il burino più grigio del web Questa è la mia top 10 delle foto maledette Ma per quanto di iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti tu dici ma perché ho cliccato per sbaglio ma che vuoi Posizione numero 7 Vedere il macellaio che si è divertito con la carne a modellare sta scena Cioè c'ha i problemi Cioè veramente inquietante Pure qua scappate Posizione numero 6 Qua invece stavo a preparare il rito satanico e c'è star gatto qua Però siccome questo è il cibo per gatti Nega affatto proprio il gatto Può essere Mamma mia non c'è sta scampo Poi ora passiamo alle prime 5 posizioni La top 5 Posizione numero 5 Scusate questo è veramente inquietante Vi prego spiegatemela Cioè non so veramente cosa dire di questa cosa Se non che è da brivido Ma manco in un film horror Posizione numero 4 Oh devi cambiare gomme e il tuo gommista ti accoglie così Che non dici sai solo in una gomma l'ha fatto No in tutte le altre Amico gommista ma che problemi c'hai? E adesso passiamo alle prime 3 posizioni Posizione numero 3 Cioè è incredibile che l'ombra di questo cane crei un lupo maligno Cioè ma com'è possibile? Veramente inquietante Cioè sto cane non sarà tranquillo come sembra Posizione numero 2 Oh questi palloncini ci abbiamo attaccato a una fetta di pizza Per cui chiaramente è stato il pagliaccio Segui segui i palloncini Oh segui che mi frega c'ho fame E ora passiamo finalmente alla prima posizione Questa è davvero inquietante Da brivido Ma prima scrivetemi nei commenti qual è secondo voi la prima posizione Dopo aver visto questa Posizione numero 1 I polli che bagnano gli scarti di Kentucky Fried Chicken Non sapevo guarda È veramente cannibalismo Ma possibile che loro non si rendono conto? È allucinante Bene ragazzi per oggi è tutto Questa era la mia top 10 delle foto maledette Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi Attivate la camparellina delle notifiche Per non perdervi i prossimi video E vamo le